Questo Pino, mia mamma, se fosse in vita, direbbe, beh, quanti bali che c'è? Pino è di Gioia Tauro, come diceva. Come si chiama? Non ha un nome. Al Sigoli. Da quanto è da queste parti? Quanti anni ha, almeno? Non vuole essere inquadrato? No, no, no. C'è un Pino, io abito a Piero, ho una casa a Piero Modolena, verso Parma, Allora c'è un suo omonimo, tanti anni, non posso dire di essere cliente, ci conosciamo bene, ma... E anche solo filmare il camion è come dargli una coltellata. Il Sigolot! A me piace il gelato al bergamotto, ma il bergamotto mi fa ridere il nome, ma è molto brusco da mangiare così. Bruschissimo. Queste qua sono piccanti, mi piacciono le olive, ma le piccanti no. Arpaie, non li fa lei lì, commercializza e basta. No, no, questo è tutto. Eh? Questo lo faccio. Ah! Ma Arpaie è lei, no? No, Arpaie è il tappo. Il capo di cosa? È la marca che fa il tappo. La marca del... No, il nome. La marca del camion, no? No, del tappo quello. Ah! Non ho capito. Questo qua serve per i pacchi? Sì, ce lo vedete. Pino, me lo dice il cognome, no? No. Cos'è questo? Un piccolo mandarino? Mandarino. Che mestiere è, Pino? Bello. Col Covid ha guadagno di meno, uguale, di più? Certo, di meno. Quanto ha perso? C'è meno passaggio. 20%? Anche un 20%. Cos'è quella? È una gara. Quindi io ho la rastrite, quindi non... Arance le prendiamo. La cipolla mi piace anche, ma è terribile. E terribile, dopo non riesco a dormire, già faccio fatica. Le noci, beh, è bello. Ma quindi qua solo per una famiglia numerosa. Non le chiedo neanche questo in regalo, perché... A quanto costa? Non vedo i prezzi. Sì, sì. 5. Troppe, dopo mi rimane lì e... Questa è piccante, la tipica cipolline, sì? Cipollone? Cos'è? Non è cipollone. Cos'è il bianco? Il bianco, sì, sì. La famosa cipolla di Troppea, no? Sì. Beh, è stato bravo, mi aveva detto che... Mi spiega Pino perché i calabresi sono così, ma anche uno che è in affitto da me, avrei piacere, ma non per avere... Come mai il meridionale non vuole finire con la sua faccia anche... Cos'è quello, la bottiglia? Olio? Non me l'aspettavo, l'olio. Quello là invece? Cos'è, d'oliva o di rosa? Guarda, è sempre uguale. Cos'è? D'oliva? Cipolline di te oliva. Come mai il meridionale dico, non ama i scorsi, ma ama magari scherzare, ma privatamente. Meloncine? Quest'è di carattere, secondo me, non lo so. Non è di regione? No, no, no. Beh, c'è una bellissima scaletta, eh? Cosa c'è lì dietro? Mianzane anche quelle, non riesco? Sì, tutto me lo so. Mandarinetti cinesi? Ma sta qua sempre? Sì. Orario circa? Alle 8 la mattina, alle 8 di sette, 7 e mezzo. Ma deve pagare o? Certo. Quanto paga? Non mi ricordo le chiude, ma anche se le vede le mie giude... Ma poca roba? Sì, no, non posso fare. Che voto dà al suo lavoro, Pino? Io sono contentissimo. Veramente? Ma faccio un lavoro di cassione, ma... Mele che cosa? Che non riesco a riconoscere. Mele su mele... Si chiama, si chiama, si chiama... Pinkledi. Mele? La Pinkledi. Non la conosco. Quindi quelle sono tutte piccanti. Sì, però non te lo posso. Vabbè. Le posso rubare dieci noci, ma questo è troppo. Dopo, perché io mi conosco. Ce le ha fuori? Ah, ma ce le ha lì. Faccia venti, via. Non gliele pago, eh? Questo è il mio... Io lavoro gratis a mie spese. No, quelle lì sono troppe. No, 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 no esageri. Non più di venti, non più di venti. Questo è l'omaggio per il videografo. Invece, Pino, visto che insomma io ci tenevo, non è una pubblicità. Mi dice qualcosa in più sul suo lavoro? Le faccio un esempio, no? Oggi la Juve ha perso e Cristiano Ronaldo non ha giocato, no? Vado di qua che se no si sente molto la macchina. Le cambio la domanda ancora. Per esempio, io questo lavoro lo faccio gratis. È anche poco dignitoso, no? Nel senso che quasi vado alle lemosine. Però lo faccio perché mi piace. Mi piace, per me, invece di andare al bar, a parte che no. Fare un lavoro umile, l'ambulante, no? Lei cosa ha scritto sulla carta di identità? È commerciante, no? No, io questa identità ce l'ho. Commerciante. Professione cosa scrive? Commerciante. Un agricoltore. Agricoltore. Dico, è un lavoro molto umile. Cosa pensa se guarda Cristiano Ronaldo? È invidioso? No, no, no. Non so, i suoi sentimenti. Oppure non so. Qua, se ci fosse il sindaco di Modena, no? Che ha delle responsabilità, un ruolo anche. Lei invece fa un mestiere umile, tranquillo, lontano dai riflettori. Insomma, questo tipo di vita, la sottista comunque, non è geloso, invidioso. Non vorrebbe essere al posto del sindaco? No, no, no. Piuttosto che fare, insomma... Sono orgoglioso del mio lavoro, mi accontento di poco e... Quanti anni sono che lo fa? 15 anni. E prima cosa... Prima cosa... È vero che Ronaldo... Ronaldo prende tutti quei soldi. Ecco. Non so cosa non devono fare, non so. Non so. Ma cosa faceva prima, Pino? Audita. Di che cosa? Tir. Come mai ha cambiato? Un lavoro... C'è la mia azienda, c'è i terreni... Dove c'è IA? Giù in Calabria. Ah, quindi, bello. Dove abita? Non l'indirizzo, è il quartiere di... A Modena, Reggio, dove abita? Io qua. A Modena. Come vive un calabrese a Modena? Bene, bene. Nessuna discriminazione? Sorriso, sorrisino? Rispetto a tutti, non è bene tutto. No, sì, dico nessuno. No, no, no. Ironia? Io vado d'accordo con tutti. Bravo. E da quanto? 15 anni? 15 anni. E prima del camionista, dell'autista? Io? No, sempre con me. Non è sempre con me. Mi ha fatto un grande regalo. Mi manca solo il viso, ma passato. Chi mi ha fatto? Sposato, fidanzato? Nonno. Nonno? Fratelli, sorelle? Sì, due fratelli e una sorella. I genitori sono in vita? Uno. Ah, quindi è nonna o nonno? Nonno, nonno. No, i genitori suoi? Nonno, nonno. Nonno di quattro nipotini. No, ma lei i genitori suoi ce li ha ancora? Uno, papà. Quindi il papà è bisnonno dei nipotini? Sì, sì. Come si chiama il papà? Cesare. Allora la lascio che con me è divertimento, con l'aspetto. Ciao, buonasera. Grazie, tante buone cose. State buone. Bello? Una porzione di noce. Ma noi siamo altro che felici, appagati e riteniamo che queste persone siano vere, al di là del sindaco Mustarelli che è un personaggio di primo livello, ma queste persone meritano di essere ascoltate. Leone? 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 Grazie.